Allora, vediamo un po' di fare questa chiacchierata. Parliamo di sistemi di protezione passiva. Io faccio una carrellata un po' tipologica e tecnologica di quelli che sono i sistemi di protezione passiva che poi oggi possono essere in qualche modo utilizzati per la protezione sismica degli edifici. Nuovi ed esistenti. Poi magari l'ingegner Capilli che viene dopo di me vi parlerà anche di qualche applicazione di smorzatori, di qualche sistema passiva su edifici esistenti per far vedere come in effetti questi sistemi possono essere utilizzati nella pratica progettuale. Ho sbagliato. Facciamo sì. Iniziamo un po' a vedere da un punto di vista pratico e da un punto di vista un po' generale e dall'alto come le costruzioni possono in qualche modo essere considerate nel momento in cui io vado a intervenire fra di loro. Io lo dico sempre, noi siamo partiti da quando io ero studente, molti colleghi le avranno utilizzate, dalle tensioni ammissibili, noi parlavamo di una verifica da un punto di vista puntuale, da un punto di vista della verifica in un punto della tensione che andava in qualche modo a essere confrontata con quella che era la tensione ammissibile, quindi la tensione ideale confrontata con la tensione ammissibile. Poi e man mano siamo passati lentamente agli stati limite, quindi siamo passati da una verifica puntuale a una verifica di sezione e quindi siamo andati a verificare le resistenze e confrontare la resistenza nei confronti della sollecitazione. Già nelle norme del 2008, ma molto di più lo troverete nelle future norme tecniche, in quelle del 2016 forse, visto che ogni anno si cambia data, ma c'è stato il concerto fra il Ministero dei lavori pubblici e la protezione civile, quindi a questo punto le norme stanno per passare alla conferenza Stato-Regioni e se dovesse essere approvata la conferenza Stato-Regioni sul serio si parla di nuove norme tecniche per le costruzioni. Stiamo lavorando del resto ai nuovi application documenti degli eurocodici e alla nuova stesura della nuova circolare, quindi è probabile che escano sul serio, però anche se insomma, lo dico sottovoce perché non si sa mai, però nelle nuove norme tecniche, che comunque sono disponibili nella versione approvata dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici sul sito del Consiglio Superiore, e anche un pochino nelle vecchie, e poi ne parleremo perché si parlava già di... si parlava, ma si parla soprattutto in queste nuove, di una visione un po' più globale della struttura, quindi di una visione in termini di capacità e domanda, quindi vedrete che nel capitolo 7 delle future norme tecniche non si parla più di verifica di sollecitazione, o verifica di spostamento, o verifica di righezza, si parla di verifica in termini di capacità e domanda, e la capacità della struttura che deve essere globalmente superiore alla domanda richiesta dal terremoto. E quindi è una visione un po' globale della verifica, tant'è che poi, lo vedrete, si inizia a parlare esplicitamente di verifiche di duttilità, dove quindi evidentemente una duttilità globale, una richiesta in termini di spostamento globale, si esplica poi in una verifica in termini di duttilità locale, che non è più implicita nella verifica dei dettagli costruttivi, ma vedrete che è esplicita a volte in termini di rotazione plastica, per esempio. Quindi si parla di una verifica comunque globale, quindi si va sempre verso un sfruttamento sempre maggiore delle risorse della nostra struttura, perché quando facevamo una verifica alle tensioni ammissibili, arriviamo al primo snervamento della prima fibra di una prima sezione. Quando parliamo di verifiche agli stati limite, verifiche di sezione, parliamo evidentemente della formazione della prima cerniera plastica, Tarabaralla, insomma, se vogliamo, adesso iniziamo a parlare di formazione del meccanismo, quindi stiamo sfruttando sempre di più queste risorse. Risorse che poi del resto la normativa già consentiva di farci sfruttare. Se voi pensate che nella circolare anche del 2008, nel capitolo 4, edifici per le azioni statiche, verifiche statiche, già si introducevano in qualche modo quelle che erano i primi sentori, perché vi consentiva di fare, non so se quanti di voi l'hanno fatta, ma a volte è utile, la ridistribuzione dei momenti per gli edifici di calcestruzzo armato, quindi già quello era una prima visione di verifica globale dell'edificio, tenendo conto della possibilità di sfruttare le risorse plastiche dell'intera costruzione, piuttosto che quella della singola sezione. E quindi già lì si iniziava a parlare di verifica dell'edificio, di qualcosa che andasse oltre la formazione della prima cerniera plastica, se vogliamo. Quindi vedete che si sta andando sempre di più ad avere una visione globale dell'edificio, sfruttandone globalmente le risorse. Peraltro che può essere fatto sia in termini di azione statica che in termini di azione sismica, poi bisognerà vedere come le due cose in qualche modo possono coinvivere. Anche di questo si sta discutendo. E considerando anche che poi parlo con la presentazione, chiudo questa parentesi, considerando poi anche la divisione fra progettazione statica e progettazione sismica è artificiosa, perché esiste la progettazione strutturale, quindi le due progettazioni dovrebbero essere unite, tant'è che si parla spesso e volentieri, si inizia a parlare di cambiare anche le norme, nel senso di unire il capitolo 4 e il capitolo 7 in un unico capitolo, perché ci sono delle cose del capitolo 7 che starebbero bene nel 4, o comunque delle cose che sono comuni, tipo le tipologie strutturali e così via. Quindi probabilmente prima o poi si andrà sempre di più in una unificazione della progettazione, che è corretto, parlando di progettazione strutturale, ovvero ci saranno evidentemente le azioni statiche, le azioni sismiche, da andare a considerare nel momento in cui noi andiamo a fare la nostra progettazione, le nostre verifiche strutturali. Partendo da questo presupposto, anche quando io vado a fare qualcosa di un po' più avanzato, più innovativo, lo devo fare tenendo d'occhio l'intera costruzione, e quindi non più l'elemento strutturale o la sezione. Noi possiamo farlo facilmente, abbastanza semplicemente, andando a fare una verifica, scusate avevo perso il mouse, una verifica in termini energetici, cioè l'energia di input del terremoto viene in qualche modo assorbita e immagazzinata all'edificio come energia cinetica, energia di deformazione, e poi viene dissipata all'edificio come energia viscosa ed energia isteretica. Quindi l'energia di input viene in qualche modo a trasformarsi in energia cinetica di deformazione viscosa, isteretica, a seconda di come il nostro edificio viene progettato e realizzato. Allora vedete che in termini energetici poi alla fine la verifica si fa, come ho detto prima, proprio in termini di domanda e di capacità. Quindi vedete che io non faccio nient'altro che a confrontare la domanda che l'energia di input in qualche modo del terremoto va a introdurre nel mio edificio o nella mia costruzione che deve essere minore della capacità dell'edificio di immagazzinare l'energia sismica in termini a seconda del tipo che in qualche modo io sto andando a considerare. Per poter soddisfare questa diseguaglianza cosa devo fare? Devo semplicemente intervenire o sulla domanda o posso intervenire sulla capacità. Quindi posso o cercare di diminuire la domanda posso altresì cercare di aumentare la capacità. Diminuire la domanda cosa significa? Significa semplicemente andare a diminuire quelle che sono le richieste in termini per esempio di spostamento sul mio edificio e questo lo posso fare attraverso tipicamente parliamo di sistemi di protezione passiva evidentemente si può fare in tanti altri modi e si può fare introducendo un sistema di isolamento sismico dove la domanda in termini di spostamento va poi a concentrarsi tutta a livello del piano di isolamento. Alternativamente io posso aumentare la capacità quindi posso aumentare la capacità di dissipare l'energia isteretica l'energia sismica del mio sistema in termini che lo posso fare aumentando l'energia isteretica aumentando l'energia di dissipazione viscosa aumentandone entrambe a seconda del tipo di sistema che io introduco nel mio di dissipatore che introduco nel mio edificio che ora poi vediamo i vari tipi e come fare. Noi lo sappiamo già fare questo lo sappiamo fare come? Tramite le norme tecniche controllando attraverso il capacity design attraverso la progettazione in capacità il meccanismo di collasso del nostro edificio e quindi andando a controllare la formazione delle plasticizzazioni nell'edificio in modo tale da avere una sufficiente capacità di dissipare l'edificio tramite la formazione delle scendiere plastiche nelle zone duttili che noi abbiamo identificato. Questo lo possiamo trasformare in qualcosa di ancora più avanzato andando a inserire nelle zone che in qualche modo noi andiamo a individuare dei dispositivi dove si concentrerà in qualche modo la domanda e quindi che saranno capaci in qualche modo di dissipare l'energia in termini di viscosa o in termini di steretica. E adesso sono tre. Un'analogia che si fa spesso e che sta su un libro abbastanza famoso di sistemi di protezione passiva del Cristopoulos è quella del flusso della pioggia e solo per curiosità cioè semplicemente si vede che l'edificio è come se fosse si prende l'edificio che è soggetto a un fenomeno di pioggia la pioggia rappresenta l'energia del sistema l'energia del sistema può entrare nell'edificio o scorrere lungo il tetto se il tetto è chiuso la pioggia non entra nell'edificio quindi l'edificio diventa isolato se il tetto è aperto l'edificio è in risonanza completamente aperto cioè tutta l'energia entra nell'edificio e l'edificio va in risonanza. L'energia che entra nell'edificio che è l'energia input poi si può trasformare attraverso un sistema di pompe in energia viscosa energia cinetica energia isteretica o energia elastica vedete come avevo detto prima e quindi evidentemente la stessa cosa che succede all'edificio che è sottoggetto al terremoto succede sono duro rispetto all'edificio che è soggetto alla pioggia stessa. Iniziamo a parlare di edifici di cosa succede con gli edifici sistemi dissipativi sistemi dissipativi di fatto non fanno nient'altro vedete che concentrare quindi tutto quello che è la domanda di spostamento rimane in qualche modo applicata all'edificio ma i fenomeni plastici vanno a finire nel sistema dissipativo che in qualche modo smorza l'energia sismica ma come la smorza? Semplicemente aumentando appunto lo smorzamento totale del sistema quindi non si fa nient'altro che abbattere lo spettro quindi il sistema dissipativo non mi fa nient'altro che spostare lo spettro in verticale quindi aumenta è come se aumentasse quello che noi chiamiamo Q-factor tra virgolette ma non è il Q-factor in sé dell'edificio ma è lo smorzamento del mio sistema dissipativo che fa aumentare lo smorzamento equivalente totale del sistema stesso se io invece isolo il sistema se io isolo il sistema la domanda di spostamento va a finire tutta concentrata nel sistema di isolamento e il sistema è come se andasse verso destra cioè il periodo fondamentale del sistema si sposta verso destra spostandosi verso destra ottengo mi vado a spostarmi nella zona dell'accelerazione di spettrali più basse e quindi proteggo automaticamente l'edificio perché la domanda in termini di sollecitazione e quindi ma anche di spostamento nell'edificio isolato crolla diminuisce in maniera importante e vedete queste sono i due tipologie di sistemi non sempre il primo e il secondo sono indicati ci sono dei casi in cui sono più indicati sistemi dissipativi evidentemente e alcuni casi in cui sono indicati invece sistemi di isolamento faccio presente che anche un edificio danneggiato quando pensiamo agli edifici che si danneggiano se un edificio si danneggia senza avere conservando comunque una sufficiente capacità di assorbire le azioni orizzontali e di resistere le azioni e di sostenere le azioni verticali danneggiandosi cosa fa? Comunque l'edificio che si danneggia automaticamente aumenta gli attriti e quindi aumenta lo smorzamento equivalente globale dell'edificio ma aumenta anche il periodo perché diminuisce la rigidezza quindi si sposta verso destra quindi un edificio danneggiato che comunque continua ad avere delle sufficienti capacità residue nei confronti di azioni orizzontali e verticali di fatto si autoprotegge perché si sposta lo spettro in direzioni che sono in qualche modo più favorevoli a quello che è il funzionamento dell'edificio stesso vediamo quali sono i sistemi di dissipazione dell'energia i sistemi di dissipazione dell'energia in generale possono essere di tre tipi sistemi semiattivi attivi e passivi evidentemente quelli che poi si possono applicare più facilmente nella pratica progettuale sono i sistemi passivi anche se c'è qualche applicazione di sistema semiattivo quelli attivi ne parleremo ora ma sono evidentemente applicazioni particolari che peraltro in Italia si usano poco si possono usare poco anche per altre ragioni comunque il sistema attivo il sistema attivo più importante quello un po' più qualche modo più che conosciamo meglio se ci pensate se ci pensate del corpo umano perché noi abbiamo dei sensori con cui leggiamo quello che sono gli stimoli esterni gli stimoli esterni in qualche modo dai sensori vanno a finire al cervello il cervello processa lo stimolo esterno in qualche modo e dà delle informazioni alla periferia per fare delle azioni in funzione di quello che è lo stimolo esterno la stessa cosa succede alla struttura progettata con un sistema di controllo attivo e il sistema di controllo attivo ha al suo interno un sistema di monitoraggio esterno che monitora la risposta istante per istante della struttura questa risposta istante per istante della struttura viene processata dal controllo computerizzato quindi viene registrata dai sensori riportata dal controllo computerizzato che è la processa cerca di capire la struttura come sta funzionando in quell'istante a seconda del funzionamento istante per istante della struttura va poi il sistema computerizzato fornisce agli attuatori delle informazioni in modo tale da cambiare in real time in tempo real la risposta alla struttura in maniera virtuosa e da minimizzare in qualche modo quelli che sono gli effetti per esempio del terremoto il problema di questi sistemi è quello dell'apporto di energia perché evidentemente il fatto che ci siano un sistema di monitoraggio comporta un grande apporto di energia quindi sono sistemi complessi e costosi hanno il vantaggio che evidentemente è il funzionamento del sistema della struttura viene ottimizzata istante per istante in maniera decisamente funzionale vedete qui c'è un esempio di sistemi dissipativi di tipo attivo questo non è attivo il TMD sono i Tunis Mass Dumpers sono sistemi a masse accordate semplicemente se voi avete un sistema di un portalino insomma un telaio con delle masse e delle rigidezze al telaio viene collegato attraverso una rigidezza opportuna e uno smorzatore opportuno una massa opportuna ben progettata in modo tale che questa massa nel momento in cui l'eccitazione del terremoto questi sono usati anche per esempio per smorzare le vibrazioni delle passarelle pedonali nel passaggio dei pedoni quando c'è un'eccitazione esterna la massa viene in qualche modo messa in moto per effetto delle forze di inerzia dello scuotimento del terreno questa massa accordata si vada in controfase se vogliamo rispetto alla massa principale e ne smorsi gli smorsamenti questo è in qualche modo un sistema a masse accordate se a questo sistema ci aggiungiamo un attuatore che cambia di fatto la rigidezza del collegamento fra massa accordata e massa principale istante per istante e io in funzione del moto del telaio posso cambiare tramite l'attuatore la rigidezza della massa accordata a questo punto questo mi diventa un sistema di controllo attivo che istante per istante mi può cambiare la risposta della struttura stessa i sistemi più famosi sono quelli che vediamo tante volte anche in tv sui documentari che stanno in Giappone o in America ci sono poche applicazioni sicuramente in Europa per tanti motivi ora lasciamo sorvoliamo su argomenti un po' più specifici e andiamo velocemente a quelle cose che forse ci interessano un po' di più questi sono i sistemi a controllo semiattivo non hanno il sistema di monitoraggio quindi non hanno un sistema che in qualche modo registra la risposta della struttura dipende il loro controllo dipende essenzialmente dall'input che viene registrato istante per istante e comunque anche loro possono cambiare possono cambiare la rigidezza in funzione di quello che gli viene richiesto un sistema di controllo semiattivo sono questi qui sono i sistemi a rigidezza variabile gli AVS vedete vengono installati in sistemi di controvento c'è un sistema di controvento in cui poi viene inserito un dispositivo semiattivo il sistema di dispositivo semiattivo è questo pistoncino in cui il fluido che passa può passare da una camera all'altra attraverso un cortocircuito regolato da una servovalvola a seconda dell'apertura della chiusura della valvola di collegamento ci può essere più o meno passaggio di fluido da una camera all'altra e quindi può cambiare la rigidezza del sistema oleodinamico e quindi questo aumenta o diminuisce la rigidezza può aumentare o diminuire la rigidezza del controvento è il sistema più semplice di quelli che abbiamo visto prima perché è un sistema comunque però richiede sempre un sistema di controllo quindi siamo a metà fra i sistemi passivi i sistemi attivi questo è un sistema magneto-oreologico dove la variazione di rigidezza del fluido non avviene tramite la camera e la valvola ma avviene tramite un campo elettromagnetico che orienta in maniera diversa le particelle di ferro che sono sospese nel fluido quindi a seconda del tipo di campo magnetico in qualche modo viene a cambiare la rigidezza del fluido e quindi la rigidezza del sistema magneto-oreologico stesso questi sono applicati sia per proteggere la produzione dei sismi negli edifici qui c'è un'applicazione per le vibrazioni degli stralli di un ponte strallato anche in questo caso questi sistemi possono servire per evitare le vibrazioni indotte dal vento da fenomeni di stabilità ci sono dei fenomeni di stabilità dei ponti strallati che sono dovuti alla frequenza mutua fra la frequenza dell'ostrallo e la frequenza dell'impalcato che possono in qualche modo dare fastidio e poi ci sono i sistemi passivi i sistemi passivi sono quelli fissi ovviamente sono quelli più facili da utilizzare e quelli più utilizzati soprattutto in Italia il sistema non cambia le caratteristiche meccaniche durante il terremoto cioè nel senso che il sistema è come è progettato e quindi noi dobbiamo progettarlo dovendo prevedere in qualche modo quella che è la risposta dell'edificio durante il sisma questi sistemi possono avere quindi di fatto io ottimizzo il funzionamento del sistema per una solo livello della sollecitazione sismica non è necessario alcun alcun sistema di controllo né alcun apporto di energia esterna e quindi sono molto semplici da utilizzare quello che succede vedete è che al posto di avere una struttura che si danneggia in maniera diffusa io ho una struttura che si danneggia controllata ma diffusa perché noi con il capacity design con la struttura con la progettazione in capacità controlliamo il danneggiamento della struttura però è un danneggiamento diffuso qui invece lo concentriamo nelle zone che in qualche modo noi abbiamo prefissato come essere le zone in cui si concentreranno tutti i fenomeni postelastici quindi nei dissipatori nei sistemi dissipativi questo è importante per tanti motivi uno perché aprendo una parentesi un'altra noi stiamo lavorando molto su problemi di rischio problemi di riduzione del rischio è quello che si nota quando si parla di riduzione del rischio il rischio è connesso ai danni i danni possono essere diretti o indiretti quindi si parla di danni diretti sono quelli economici si parla di danni indiretti sono i danni sociali quindi per esempio possono essere le vittime se voi vedete il rischio i danni diretti sono sempre quindi noi per controllare la riduzione del rischio noi dobbiamo decidere se vogliamo operare sui danni indiretti o sui danni indiretti per operare sui danni diretti cioè quelli economici voi vedrete che si e voi in Emilia l'avete visto abbastanza col terremoto con i terremoti che avete subito quello che vedete è che i danni diretti sono quelli connessi non tanto agli stati limite ultimi al collasso ma per diminuire i danni diretti voi dovete agire sugli stati limiti di esercizio cioè dovete agire sull'imitare i danneggiamenti agli elementi non strutturali agli impianti e così via quindi vedrete che per diminuire i danni economici bisogna agire sugli stati limiti di esercizio o stati limiti di danni e così via per diminuire i stanni indiretti voi dovete andare invece ad agire sullo stati limiti di collasso o stati limiti di salvaguardia della vita e questo è assolutamente ormai chiaro e quindi quando voi progettate l'edificio e volete intervenire su un edificio esistente bisogna sempre stare attenti a capire cosa si vuole ottenere perché è inutile ottenere andare a agire sullo salvaguardia della vita per diminuire i costi di riparazione per esempio non ha senso per diminuire i costi di riparazione di un edificio esistente basta controllare per esempio gli spostamenti o controllare il danneggiamento quindi noi andiamo sempre di più verso una visione di intervento sull'esistente ma anche di costruzione sul nuovo che in qualche modo non ci limita a dire ok basta che non mi caschi in testa ma bisogna anche pensare a come si danneggia quanto si danneggia quanto costa il costo di riparazione all'anidis si parlava addirittura di stato limite di ricostruzione cioè di verificare per un edificio quanto potrebbe essere il costo nel momento in cui io vado a ripararlo e in effetti bisogna anche iniziare a pensarci bisogna pensare quando si progetta l'edificio alla globalità della costruzione e questo lo ritroverete anche un po' nelle prossime norme tecniche cioè che la costruzione fa ci sono le strutture le impianti e gli elementi non strutturali e tutto va verificato in modo tale da non solo evitare crolli ma minimizzare i danni nell'interno di una progettazione basata sulle prestazioni che sia a multilivello e che in qualche modo ci accompagni verso una progettazione virtuosa che ci diminuisca il rischio in questo poi vedrete sulle norme tecniche ci sono due 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 aspetti importanti il primo è sul capitolo 7 che voi troverete e lo so che molti non saranno contenti delle prescrizioni abbastanza stringenti sia sugli elementi non strutturali che sugli impianti cioè non è che come si faceva prima cioè bisogna evitare a quello che si faceva una volta lo faceva anche il mio padre che era ingegnere strutturista faceva la relazione di ultimazione delle strutture strutture ultimata poi a rivederci grazie ma dopo la struttura ultimata c'è gli impianti c'è gli elementi non strutturali e così via nelle prossime norme tecniche dice attenzione che anche gli elementi non strutturali vanno progettati e la responsabilità della progettazione è del progettista ma se l'elemento non strutturale è realizzato in opera allora c'è la responsabilità del direttore dei lavori sulla realizzazione dell'elemento non strutturale se prefabbricato c'è la responsabilità del prefabbricatore della realizzazione dell'elemento non strutturale e poi c'è la responsabilità dell'aggancio tra l'elemento non strutturale e la struttura qualcosa di simile c'è per gli impianti cioè il progettista deve progettare gli elementi strutturali cui si agganciano gli impianti non parliamo del boiler ma parliamo e devono essere progettati anche i sistemi di aggancio in maniera adeguata e quindi c'è tutta una filosofia che ci comporta una visione sull'intera costruzione e non sull'edificio questo proprio perché bisogna iniziare a controllare in maniera un po' più puntuale quelli che sono i potenziali danneggiamenti della struttura la seconda cosa che è importante e che in qualche modo si collega anche con gli interventi con i sistemi dissipativi è che si sta parlando sempre di più sempre meno di adeguamento io lo vedo in Toscana si parla molto di con le norme vecchie anche e soprattutto le amministrazioni pubbliche parlano di adeguamento 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 bisogna adeguare sicurezza a tutti i costi c'era un prefetto che una volta mi disse lei mi deve garantire la sicurezza che abitava nella prefettura che i prefetti abitano nell'edificio stesso della prefettura lei mi deve garantire la sicurezza e l'incolumità assoluta mia dei miei familiari e poi anche eventualmente delle persone che ci sono oltre a noi però se ne era ricordato e io le dissi inizia ad andare in albergo perché io non glielo firmo infatti è andato in albergo cosa significa la sicurezza sicurezza non significa nulla nel senso se casca il lampadario io vado in galera perché ti ho firmato che tu sei sicuro al 100% quindi bisogna superare il concetto di sicurezza a tutti i costi che ci fa del male poi a noi ingegneri nel senso che ci fa del male nel senso che poi ci inseguono i magistrati allora iniziamo a pensare a un concetto di riduzione del rischio iniziamo a pensare a un concetto di miglioramento delle costruzioni soprattutto quelle esistenti e iniziamo a vederle in maniera un po' diversa perché se no veramente si va a sprecare risorse dietro chimere che non sono raggiungibili insomma perché cosa significa io lo vedo in Toscana anche per le scuole c'era bisogna l'assemblea con i genitori una volta ho fatto un'assemblea con i genitori che mi hanno mandato a quel paese mi era appena seduto sulla sedia non avevo acceso il microfono mi hanno già cacciato praticamente allora perché deve essere sicura ma che significa sicura la scuola se è stata costruita negli anni 70 allora chiudila quindi iniziamo a capire cosa significa bisogna invece fare una politica sana e seria di riduzione del rischio del nostro patrimonio immobiliare che è una cosa diversa è una cosa diversa nel senso che noi dobbiamo imparare a ridurre il rischio in maniera controllata se voi vedete poi chiudo la parentesi se voi vedete la curva di costi benefici io sto parlando di un'altra cosa ma è sempre connessa se vogliamo se voi vedete la curva di costi benefici di un intervento su un edificio se questi sono i costi questi sono i benefici scusate sbaglio sempre questi sono i costi allora cosa succede che voi quando iniziate a progettare con pochi interventi qui il gradiente è alto con pochi interventi furbi magari avete dei grossi benefici perché qui il gradiente è alto a un certo punto è chiaro che questa curva inizia a perdere di gradiente quindi con grandi costi voi avete piccoli benefici quindi l'adeguamento a tutti i costi ci costa tanto scusate il gioco di parole quindi non ha senso ha senso andare a fare l'adeguamento a tutti i costi di un edificio o ha senso magari usare le risorse in maniera controllata per ridurre in maniera il rischio in maniera ottimale fra tutti gli edifici che in qualche modo io ho nel mio patrimonio immobiliare se sono un gestore di un'amministrazione pubblica eccetera eccetera probabilmente la seconda è più corretta è chiaro che non c'ho la sicurezza a tutti i costi non c'è il prefetto che mi dice io devo essere sicuro che non casco dalle scale ma è anche vero che ho usato i soldi in maniera virtuosa e in maniera tale da migliorare le condizioni di tutti i cittadini in maniera ottimale quindi vedete che quando io intervengo devo pensare a tante cose cioè non devo pensare a far cose che sono impossibili devo pensare a intervenire in maniera furba oculata e mirata per poter ottenere il massimo risultato con uno sforzo commisurato poi ci sono altre cose che non tornano ma quelle sono più delle amministrazioni che non sono in Emilia se avete mai fatto come funziona ma in Toscana fanno le gare al massimo ribasso per lo dico sempre per le analisi di vulnerabilità sismica quindi poi è chiaro che una gare al massimo ribasso per una vulnerabilità sismica significa assegnare al professionista l'analisi di vulnerabilità non più in funzione delle capacità del professionista ma in funzione di chi viene pagato meno le gare di vulnerabilità ovviamente vengono assegnate già partono da poco o diventa molto poco se uno deve fare rispetto a molto poco il suo lavoro lo fa in maniera cercando di non fallire i risultati sono che chiaramente sugli edifici esistenti se ci pensate il risultato il risultato della verifica è commisurato alla conoscenza dell'edificio nel momento in cui voi conoscete bene l'edificio avete già fatto la verifica strutturale non c'è bisogno nemmeno di analisi se nel momento in cui voi avete fatto non parlo di bucare ovunque di fare carote ovunque o fare martinetti piatti ovunque che è una fissa che è venuta negli ultimi anni ma parlo di conoscere effettivamente come risponde da un punto di vista strutturale l'edificio nel momento in cui non lo sappiamo a quel punto è evidente che sappiamo anche quali sono le carenze non c'è nemmeno bisogno di andare a fare modelli colorati come dico io eccetera eccetera l'ingegniero sa già come funziona quindi ha già fatto la verifica ma se io non conosco l'edificio perché magari non ho i soldi per fare l'isaggi non ho i soldi per fare una conoscenza perché non me l'hanno dati il risultato è chiaro che è scadente se il risultato è scadente la verifica è conservativa se la verifica è conservativa l'amministrazione chiude gli edifici e quindi è una catena che è evidente che non funziona e che ci sta facendo spendere soldi e tempo e risorse inutilmente quindi non assolutamente in Toscana io l'ho visto è una cosa che sta diventando assolutamente deleteria e ha fatto dei danni seri insomma questa politica qui che sta facendo tuttora anche se inizia a cambiare inizia a cambiare la coscienza di questo approccio che non funziona allora quando io intervengo dico è chiaro che tante volte non è detto che io devo fare su un edificio il capacity design a tutti i costi o devo fare degli interventi su un edificio esistente onerosi diffusi per migliorare chissà cosa magari con interventi furbi posso in qualche modo migliorare facilmente la risposta all'edificio un intervento furbo a volte può essere anche quello dell'introduzione di un sistema dissipativo tipo quelli che io sto per farvi vedere è chiaro che quando io poi vado a parlare di sistema dissipativo e io quando lo inserisco in una struttura esistente per esempio io lo introduco in un telaio quando io introduco un sistema dissipativo che può essere un controvento quello che vi pare a voi dissipativo da qualche parte e io quando introduco questo sistema in un telaio io ho un sistema di controvento che ha una sua rigidezza e una sua soglia di snervamento se vogliamo una soglia di plasticizzazione e poi ho un sistema che è il sistema a telaio che ha una sua rigidezza e una sua soglia di primo danneggiamento è chiaro che il il gioco delle rigidezze fa sì che io riesca a proteggere o meno il telaio che io in qualche modo su cui in qualche modo sto andando a intervenire io posso decidere che il mio telaio durante il terremoto non si deve danneggiare assolutamente ma se il telaio non si deve danneggiare assolutamente cosa significa? Significa che io devo inserire si deve deve spostarsi poco cioè l'interstore drifti gli spostamenti in interpiano devono essere molto bassi spostamenti in interpiano molto bassi significa che io devo in qualche modo proteggerlo con una struttura che è molto rigida quindi il mio controvento mi deve entrare rigido quindi io devo avere dei controventi rigidissimi ma se io ho dei controventi molto rigidi significa che sono è una struttura che in qualche modo si sposta poco ma se si sposta poco siccome le plasticizzazioni no? la capacità dissipativa dipende da quanto mi si sposta perché più grandi sono gli spostamenti più dissipo significa che è un sistema che è molto rigido ma che dissipa poco per farlo dissipare devo aumentare un po' gli spostamenti se mi aumento gli spostamenti significa che io sto accettando dei danneggiamenti automaticamente nella struttura che sto andando a proteggere quindi il gioco delle rigidezze e degli spostamenti e della capacità di dissipare la struttura fa sì che in qualche modo io debba decidere che mi fa progettare il sistema in maniera ottimale cercando di ovviamente minimizzare i danneggiamenti alla struttura però cercando anche di far funzionare in maniera ottimale il sistema dissipativo quindi a seconda di come progetto io ho un risultato diverso un sistema dissipativo voi lo conoscete già se vogliamo e sono quelli dei controventi eccentrici penso che ne abbia parlato Andrea Dall'Asta nelle norme tecniche mi sembra che ci sono quelli con l'eccentrico orizzontale cioè quelli con l'eccentrico messo in perdi così e qui è chiaro che l'eccentrico fa parte della trave se prendete esistono anche quelli con l'eccentrico disposto verticalmente tutti i dettagli costruttivi per la loro progettazione stanno sull'Eurocodice 8 quindi si trovano facilmente ma questo è un sistema assolutamente è di fatto un sistema dissipativo che può essere utilmente introdotto come in questa figura in un edificio di calcestruzzo armato e il risultato è quello poi alla fine di eliminare il sistema l'eccentrico che si può plasticizzare per deformazioni cicliche a taglio o a flessionali o a taglio a flessione a seconda della lunghezza dell'eccentrico e questo è un sistema dissipativo che alla fine del vostro terremoto in qualche modo può anche essere sostituito questi sistemi hanno hanno tutti i sistemi di questo tipo hanno tipo questi qui sono sistemi steretici perché dissipano per cicli di steresi a taglio o a flessione o comunque sono cicli di steresi di un elemento di acciaio di fatto e aumentano attenzione sia lo smorzamento globale del sistema quindi aumentano lo smorzamento globale del sistema quindi abbattendo lo spettro però aumentano anche un po' la rigidezza quindi significa che se aumentano la rigidezza di fatto se pensate è come se voi vi spostate a sinistra sullo spettro quindi aumentate un po' la domanda in termini di sollecitazione sulla struttura quindi anche qui bisogna stare attenti al bilancio fra l'aumento della rigidezza e l'aumento di smorzamento globale della struttura stessa un'altra cosa di tutti questi sistemi anche di tutti quelli che vi presento è che tutti questi sistemi poi alla fine hanno evidentemente alla fine dei cicli hanno uno spostamento residuo questo significa che tutti questi sistemi non sono autoricentranti cioè nel senso che alla fine del terremoto la struttura ha una freccia un drift residuo esistono sistemi autoricentranti non mi ricordo se in questa presentazione ci sono sono di due tipi di fatto quelli con smart materials materiali a memoria di forma ma quelli più un po' più facili da utilizzare sono quelli basati su sistemi di cavi di per compressione che in qualche modo alla fine del parlo di smorsatori alla fine dei cicli del terremoto riportano la struttura lentamente alla composizione originaria qui vi faccio vedere quali sono mediamente i sistemi dissipativi un po' più utilizzati o un po' più famosi insomma una classificazione possono essere o i sistemi metallici quelli stereetici o ad attritivi o viscoelastici viscofluidi o metallici a taglio questi sono quelli metallici uno metallico abbastanza famoso sono i BRB Buckling Restrained Brace sono i controventi a instabilità impedita di fatto si tratta di un sistema di controvento con un cuore di acciaio all'esterno c'è un tubo di acciaio il cuore di acciaio viene in qualche modo immerso in una malta inclusa in questo tubo esterno la differenza qual è? che mentre un sistema di controvento normale tra virgolette ha alla fine dell'incompressione va a instabilizzarsi con evidentemente un degrado molto veloce sia dell'elemento strutturale ma anche del collegamento pensate che anche il collegamento viene sollecitato fuori piano c'è una distorsione fuori piano dovuta al fenomeno di stabilità e vedete quello che succede ai cicli esteretici che in qualche modo sono poco panciuti tra virgolette c'è un forte pinching e quindi c'è una bassissima dissipazione di energia sismica in questo caso invece vedete col BRB il sistema anche a compressione può plasticizzarsi perché ne è impedita l'instabilizzazione fuori piano dalla presenza della camiscia e della malta di riempimento e il sistema ha dei cicli esteretici molto panciuti che a noi piacciono tanto e che quindi hanno una elevata distinzione di energia questi sono molto usati questo è il principio per cui poi alla fine è molto semplice per cui poi alla fine la camiscia e la malta riescono ad applicare al cuore che cerca di stabilizzarsi un'azione che in qualche modo ne impedisce proprio l'instabilizzazione ci sono tantissimi tipi di sezioni di BRB ognuno si è inventato la sua ci sono alcune che sono brevettate in America esistono dei brevetti ci sono delle applicazioni anche in Italia una sarà famosa per il collega professor Tarantino perché è dell'Università di Ancona ma ce ne sono anche altre in Italia ma anche all'estero ce ne sono alcuni altri tipi sono questi qui sono quelli abbastanza vecchiotti sono gli ADAS o i TADAS sono degli smorsatori sempre che si utilizzano per sistemi a controvento tipo a vurovescia qui viene inserito lo smorsatore lo smorsatore è formato da lamelle di acciaio parallele con forma ottimizzata in modo tale da avere una buona diffusione delle plasticizzazioni e queste lamelle che sono soggette a taglio vengono poi a plasticizzarsi e quindi a dissipare l'energia sismico questo è un sistema che si usava molto tempo fa abbastanza vecchiotto ma funziona poi ci sono i sistemi a smorsatore ad attrito o tensione e compressione o solo tra tensione poi di fatto sono semplicemente i sistemi a coprigiunto di acciaio in cui i bulloni possono scorrere nello scorrere essendo bulloni ad attrito in qualche modo possono dissipare l'energia proprio per lo scorrimento che in qualche modo si viene ad applicare a realizzare nel momento in cui si vince l'attrito stesso regolando la forza di serraggio questi funzionano abbastanza bene vedete queste sono delle applicazioni che possono essere utilizzate anche per sistemi a X a croce di Sant'Andrea per strutture in cui hanno il primo piano tipo su piloti insomma poi ci sono quelli viscoelastici in cui il materiale viscoelastico viene inserito fra due flange di acciaio in questo caso sono le due piatti di acciaio che si spostano uno rispetto all'altro e si genera del carole che in qualche modo viene dissipato dal dispositivo questi smorsatori hanno bassa rigidezza quindi rispetto a quelli isteretici hanno una rigidezza molto più bassa quindi hanno un impatto diverso sulla rigidezza della costruzione qui c'è un'applicazione in cui vedete c'è una costruzione di calcio e strutto armato in cui viene inserito perché quando io inserisco il sistema di controvento ovviamente ho una sollecitazione concentrata in corrispondenza dei nodi quindi se io ho una struttura di calcio e strutto armato che non riesce in cui i punti di introduzione dello sforzo dovuti all'inserimento del controvento di acciaio possono essere sollecitati in maniera importante e non hanno una sufficiente capacità di assorbire queste sollecitazioni posso pensare di inserire proprio un nuovo sistema parallelo a quello precedente che in qualche modo include il sistema di controvento dissipativo che è poi collegato alla struttura di calcio e strutto armato preesistente e che in qualche modo funzionano in parallelo se io ne calibro bene la resistenza e la rigidezza di tutto questo sistema posso sicuramente avere un sistema che è efficace ai fini dell'assorbimento del taglio sismico dell'energia sismica in qualche modo viene a interessare la struttura che io sto progettando questi sono i sistemi viscofluidi sono la differenza che di fatto è un pistone in cui all'interno c'è il fluido che è obbligato a passare attraverso delle fessure o attraverso la testa stessa del pistone e questo fluido evidentemente nel momento in cui viene installarsi l'azione sismica c'è una differenza di pressione si generano delle forze si sviluppa l'attrito per il passaggio del fluido attraverso queste fessure e si dissipa l'energia sismica attraverso il calore questi sono i sistemi a pannelli metallici di acciaio queste sono delle prove fatte tempo fa a Napoli possono essere di vario tipo questi normalmente sono pannelli di acciaio a basso snervamento in modo tale che io controllo con la forza di snervamento qual è il livello di taglio sismico per cui questi sistemi si dissipano l'energia questi sistemi sono molto voi sapete che i pannelli metallici a taglio hanno una grande stabilità dal punto di vista del funzionamento esteretico nel senso che un pannello metallico a taglio che potete pensare i pannelli metallici a taglio per antonomasia sono le colonne i pannelli d'anima delle colonne se prendete un nodo travecolonna di una struttura di acciaio a telaio il pannello d'anima è il pannello d'anima è un pannello d'acciaio che in qualche modo è sollecito da taglio questi pannelli d'anima se poi irrigiditi irrigiditi opportunamente possono avere una fase elastica poi hanno un ramo instabile ma poi riprendono rigidezza grazie a un sistema di funzionamento post-critico tipo telaio puntone strattentai e questi sistemi possono dissipare molto ma parecchia energia sismica il problema qual è in questi casi qui sono sistemi che hanno delle ottime funzionamenti da un punto di vista della dissipazione di energia sismica quindi in questi casi qui vengono effettivamente usati e possono essere ottimamente impiegati perché non si usa per esempio nei sistemi trave-colonna perché pensate cosa succede quando si plasticizza il pannello d'anima di una colonna se si plasticizza il pannello d'anima di una colonna la colonna il pannello d'anima di una colonna diventa romboidale se vogliamo in realtà non fa così ma la colonna rimane questi piatti rimangono fermi e questo fa così quindi la colonna si dispongono in questo modo il risultato qual è? che la plasticizzazione dei pannelli d'anima viene a far sì che ci siano delle rotazioni rigide importanti delle colonne proprio dovuto alla distorsione del pannello travi e colonna e ci sono dei grossissimi spostamenti fuori piano questo comporta dei grossi drift dei grossi spostamenti posti in campo plastico dell'intero telaio e quindi fenomeni del secondo ordine importanti per eliminare questi fenomeni del secondo ordine se notate le norme tecniche dicono attenzione sia le norme tecniche che gli eurocodici dicono attenzione che i pannelli d'anima delle colonne dei travi e colonne benché duttili non devono mai plasticizzarsi ma non perché siano fragili ma semplicemente perché la loro plasticizzazione porterebbe a fenomeni non importanti e non desiderati di instabilità globale della struttura stessa però in questi casi qui di scirpane e lattaglio i pannelli si utilizzano e possono essere utilizzati abbastanza bene andiamo avanti sulla sulla presentazione lasciamo perdere queste qui faccio vedere alcuni esempi per poi farvi passare alcuni esempi di parlare un po' di isolatori vedete questi sono alcuni esempi famosi peraltro alcuni di sistemi dissipativi questi sono penso che adesso non sia più così questo edificio ma insomma vi fanno vedere questo edificio che ha dei controventi importanti quindi significa che è un edificio che ha dei sistemi di controvento anche abbastanza rigidi invece questo ha dei sistemi di controventi un po' meno rigidi quindi significa diversi livelli di protezione poi ci si possono anche sbizzarrire questo sistema di controvento vedete che poi va in qualche modo a interessare l'intero edificio oppure si possono mettere inserire sistemi di controvento con diverse anche tipologie a V rovescia a X a seconda delle campate e comunque vedete che anche la localizzazione dei sistemi di controvento all'interno dell'edificio deve essere ottimizzata in funzione quindi piano per piano cambia anche la geometria dei controventi e la consistenza dei controventi che vengono inseriti in modo da ottimizzarne la risposta parliamo dieci minuti poi di isolamento e l'isolamento cambia completamente la filosofia l'isolamento fa sì che al posto di avere al posto di avere una un sistema che in qualche modo ha delle la domanda di spostamento è in qualche modo diffusa su tutto l'edificio e vedete qui fa vedere anche una cosa che mentre al piano terra questa figurina è un po' così che non so dove i miei collaboratori hanno pescato ma fa vedere che i danni più importanti stanno a piano terra quindi significa che perché al piano terra c'è i tagli sismici più importanti e invece qui all'ultimi piani cosa succede? magari c'è meno danni perché il taglio sismico è più basso però si rovescio nei mobili eccetera eccetera perché? perché magari c'è delle accelerazioni un po' più grosse ricordatevi sempre che anche se le norme non lo dicono lo stato limite di danno dipende sì dall'interstory drift dallo spostamento di interpiano ma dipende anche dall'accelerazione di piano cioè noi vorrendo una cosa che nelle norme non c'è perché è una dipendenza minore però i danni piano per piano dipendono da quello che sono le accelerazioni al piano trasmesse dal terremoto quindi noi dovremmo di fatto andarci a riportare lo spettro di risposta che è lo spettro di risposta del terreno a riportarlo piano per piano per capire al piano cosa mi sta succedendo in termini anche di danneggiamento della storia di danno esistono dei metodi facili anche per farlo e vedrete che prima o poi esce fuori vedete però che questo danneggiamento diffuso di diverso tipo piano per piano alla struttura che viene in qualche modo richiesto viene invece tutte queste richieste di spostamento vengono poi alla fine concentrate tutte a livello del piano di isolamento e la struttura ne risente molto poco ovviamente con delle accortimenti che poi ne parleremo quindi questa è la filosofia di un sistema di isolamento questo è quello che in qualche modo comporta comporta una fondazione un sistema di isolamento un diaframma di base rigido eventualmente uno smorzamento aggiuntivo che mi serve evidentemente per regolare gli spostamenti al piano di isolamento che ovviamente dipendono dalla capacità dell'isolatore di assorbire gli spostamenti e poi la sovrastruttura è chiaro che questi sistemi quando sono funzionano funzionano quando io ho un edificio con periodi bassi c'è un edificio rigidi e quando ho terreni rigidi ho anche terreni in cui lo spettro di risposta è di questo tipo qui perché se io sono su un terreno rigido passare da questa zona qui a questa zona qui in termini di periodo fondamentale della mia struttura fa sì che io passo da un livello di accelerazione più alto al livello di accelerazione più basse se io edifici soffici edifici poco rigidi e terreni soffici soprattutto se ho terreni soffici cosa mi succede che lo spettro ora qui esagerato è di questo tipo qui e quindi l'azione di isolamento non mi comporta dei miglioramenti da un punto di vista poi della riduzione della domanda connessa al sisma che sto andando a considerare quindi vedete che è evidente che quando il sistema è molto deformabile probabilmente è più utile e più efficace un sistema di dissipazione sismica perché se io metto i dissipatori che dissipano di più se pensate più è in qualche modo più grandi sono gli spostamenti più grande è la capacità di dissipare di questi sistemi in quei casi lì quindi per edifici poco rigidi probabilmente i dissipatori sono più efficaci poi bisogna vedere caso per caso quando il terreno invece sono rigidi e il terreno è rigido probabilmente è il caso invece di inserire un sistema di isolamento questo l'ho detto un altro sistema opzionale che non ho detto è il sistema ricentrante ovviamente anche in questo caso come nel caso dei dissipatori ci può essere dei sistemi che possono garantire il ricentraggio della struttura dopo il terremoto questo è quello che ho detto prima quello che succede qui è sul fatto sulla DRS ma lasciamolo perdere questo l'ho anche detto questo l'ho ridetto quali sono i sistemi di isolamento sismico poi vi faccio vedere questi poi il tempo sta per scadere anzi forse è scaduto i sistemi sono di due tipi i sistemi elastomerici e i sistemi si possono dividere i sistemi di apparecchi a scorrimento tra virgolette sono tutti normati da questa normettina qui che poi è una norma armonizzata quindi c'è la marcatura CE possono essere abbiamo detto di due tipi partiamo con gli elastomerici i sistemi elastomerici è evidente che se io isolassi una struttura semplicemente con un appoggio in gomma io cosa otterrei? otterrei un sistema che è molto deformabile assialmente e oltre che molto deformabile alle elezioni orizzontali però se fosse molto deformabile assialmente cosa mi succederebbe? mi succede che la mia struttura sarebbe soggetta a fenomeni di rocking cioè di rotazione attorno a un asse orizzontale che non sarebbero proprio quelli che io desidero in qualche modo durante il terremoto quindi io devo avere degli appoggi che siano sufficientemente rigidi alle azioni verticali cioè alle azioni gravitazionali ma allo stesso tempo sufficientemente deformabili alle azioni orizzontali e quindi si fa sì che la gomma sia rinforzata da piastre metalliche che irrigidiscono l'isolatore nei confronti delle azioni verticali gli isolatori in gomma generalmente forniscono limitate capacità di ricentraggio nel senso che alla fine del ciclo di stere si possono avere una certa deformazione residue possono essere di due tipi low dumping a basso smorsamento e ad alto smorsamento è evidente che quelli a basso smorsamento sono un po' più sono un po' più semplici da produrre da modellare e la risposta non è influenzata dalla velocità e dalla storia di carico quindi sono anche più semplici da in qualche modo da modellare da un punto di vista della modellazione strutturale è chiaro che siccome sono a basso smorsamento ci hanno grandi richieste di spostamento e quindi spesso e volentieri bisogna metterci in parallelo un sistema di smorsamento aggiuntivo quelli ad alto smorsamento sono un po' più sofisticati e ci danno smorsamenti più grandi quindi ci danno la possibilità di non inserire sistemi di smorsamento aggiuntivo però la loro modellazione è un po' più complicata perché la rigidezza e la capacità di smorsamento dipendono dalla pressione di contatto velocità storia di carico temperatura e così via quindi siamo sistemi che dipende dalle applicazioni poi ci sono quelli con nucleo in piombo che sono stati inventati in Nuova Zelanda nel 75 e questi qui sono identici a quelli di prima con un nucleo in piombo all'interno basato da basso valore di snervamento alta duricità e alta resistenza a fatica questo incrementa la dissipazione di energia dando una serie di vantaggi da un punto di vista della rigidezza e della risposta dell'edificio stesso il problema è che la risposta isteretica giustamente essendoci il nucleo in piombo diventa influenzata dallo spostamento cui è soggetto il sistema stesso quindi è un sistema che in qualche modo ha i suoi pregi e i suoi difetti poi ci sono qui c'è una vi fa vedere la differenza di ciclo isteretico dei tre tipi vi fa vedere quello che può succedere a un sistema di isolamento questa è una prova durante un quindi diciamo che sopportano espostamenti importanti poi ci sono quelli a scorrimento che possono essere a semplice a doppia superficie e vedete cosa significa significa che ci sono due sistemi una 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 slide in surface una superficie scorrimento principale e una secondaria che insomma in qualche modo scorrono una nell'altra e questo sistema in qualche modo ora vi faccio vedere forse la sezione è più semplice capirlo vedete questo sistema scorrendo uno sull'altro fa sì che in qualche modo riesca a far sì che la struttura si sposti orizzontalmente chiaramente c'è anche una leggera nello spostarsi c'è la struttura che dondola un pochino perché la struttura essendo curva c'è una 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 certa variazione anche di quota dell'istante per istante ma anche se piccola e vedete questo è il cinematismo in qualche modo cui è soggetto il sistema può essere a superficie sferica singola a superficie sferica doppia a seconda dei casi ora ci sono vari tipi anche brevettati sono stati questi sono quelli che poi alla fine hanno usato per il progetto case all'Aquila i friction pendulum i famosi friction pendulum pendolo inverso vedete questo è il ciclo esteretico quindi insomma abbiamo un sistema che hanno dei cicli esteretici importanti che hanno anche una buona capacità di ricentraggio quindi sono sistemiche in qualche modo e che tutto dipende poi dal infatti dal punto di vista della ricerca quello che in qualche modo si sta l'unica cosa che qui insomma in qualche modo forse vale la pena cercare fra le altre cose è i materiali che in qualche modo costituiscono le superfici che scorrono l'una contro l'altra infatti quello che si può migliorare in questi casi probabilmente stiamo facendo qualcosa in questo senso qui una curiosità una curiosità è che quando si parla di ricentraggio noi pensiamo sempre allo spostamento residuo quindi pensiamo alla verifica di ricentraggio significa vedere quanto è lo spostamento residuo del mio sistema alla fine del terremoto in realtà le norme ci dicono qualcosa di diverso nel senso che se voi andate sulla N e volete andare a capire se un sistema ricentra o meno la verifica è da fare in termini energetici questa formuletta qui che poi si specifica nei vari casi in altre formulette però è una verifica fra l'energia potenziale immagazzinata dal dissipatore e quella dissipata per isteresi questo è la disuguaglianza che va verificata per capire se un sistema è ricentrante o meno sembra strano ma è questo nelle norme c'è un po' tutto insomma nel senso ci sono qui c'è un po' quelle che sono le norme di riferimento e dove andare a cercare le cose io salto un po' quello che c'è scritto sulle norme tecniche perché è tardi e perché più o meno l'abbiamo già detto insomma qui nella presentazione troverete un po' tutte quelle che sono le disposizioni sulle norme tecniche riassunte è chiaro che ecco una cosa che non ho detto forse è che è chiaro che nell'interfaccia di scorrimento bisogna proteggere gli impianti perché se l'impianto è rigido e passa un impianto rigido passa attraverso l'interfaccia di scorrimento ovviamente può avere dei problemi cioè si rompe qui c'è tutte le prescrizioni sulle modellazioni però vi volevo far vedere prima di chiudere come si può utilizzare un sistema di isolamento per un edificio esistente non è detto che il sistema di isolamento serva solo per gli edifici di nuova costruzione noi qualcosa abbiamo pensato per i capannoni ma insomma questo è fatto vedere un po' più in generale e vedete che se io ho una superficie un piano di sconnessione sufficientemente rigido io posso pensare di sconnettere al di sotto di questo piano di sconnessione la mia struttura e inserire secondo una procedura che è abbastanza semplice poi alla fine degli isolatori al di sotto di questo piano di sconnessione e salvaguardare tutta la struttura che sta al di sopra sembra un edificio un qualcosa di abbastanza costoso ma in realtà poi se pensate a strutture che in qualche modo piuttosto che andare a fare calastrelli o imbottiture o insomma o varie cose ovunque io ho visto dei progetti in cui la struttura veniva stragiata se viziata in varie modi per arrivare a effetti dubbi poi alla fine perché poi alla fine mi ritrovo una struttura vecchia che costa un macello ho distrutto i pavimenti ho distrutto gli impianti cosa mi è rimasto? mi è rimasto la mia idea di fare un qualcosa di interessante però la struttura poi alla fine la butto via allora forse a volte interventi più sofisticati e qualcosa in Italia è stato fatto in questo senso può anche consentire un adeguamento dell'edificio molto più semplice e non è detto che sia più costoso anzi faccio vedere come queste sono foto abbastanza pubbliche tra virgolette come si può fare vedete se questa è la colonna in cui io sto inserendo l'isolamento inserisco al di sopra al di sotto dei sistemi di contrasto inserisco dei martinetti all'estremità dei sistemi di contrasto questi martinetti li metto in forza mettendoli in forza cosa succede? che io scarico la colonna e quindi la compressione va a finire tutta attraverso i martinetti tramite un filo diamantato taglio la colonna a quel punto tutto il carico sta attraverso i martinetti vedete tolgo il pilastro rinforzo localmente ovviamente l'estremità del pilastro superiore e inferiore che adesso è separato e che in qualche modo deve garantirmi la 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 trasmissione degli sforzi qui chiaramente c'è una zona singolare inserisco l'isolatore che deve essere ovviamente messo in forza perché se no rimuovo poi i martinetti cioè scarico i martinetti il sistema si adagia sul mio isolatore e in qualche modo poi a questo punto mi rimane il sistema isolato esattamente come io desideravo non è poi una cosa impossibile utilizzare il sistema isolamento anche per gli edifici esistenti io vi ringrazio penso di aver usato più o meno tutto il tempo a mia disposizione grazie